Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale YouTube oggi vi ringrazio che ci sono stati in iPhone e 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 ci sono stati in iPhone questo è un iPhone 4G Pro Max hai bisogno di acquistarlo senti, ti do un appuntamento fra un quarto d'ora, venti minuti senti, se volete tornare fra una decina di nuova sì sì, facciamo il giro un quarto d'ora e tornare è in questo modo ora siamo stati in iPhone e oggi è oggi è il sonday fia questo motivo per noi abbiamo fatto un appuntamento e abbiamo detto che vedete spiegare il nostro paese e ci sono tutti i giorni e abbiamo fatto a conoscenza e ci sono i vostri che abbiamo prendere un appuntamento e ci sono i vostri che e ci sono le quelle che e ci sono le loro appuntamento e ci sono i vostri appuntamenti e ci sono i vostri appuntamenti io sono riusciti a fare un'esercizio qui ci sono riusciti a fare un'esercizio siamo venuti per fare un'esercizio ma siamo riusciti a fare un'esercizio perchè abbiamo fatto un'esercizio 15-20 minuti per l'esercizio questo è qu'il è il Scusate Scusate Ci sono i miei Samsung Lino Come andate? 5400 Scusate 5400 Ci sono i miei Ci sono i miei Wifi Adap Eccetera IGP Eccetera Eccetera Sono i miei Sono i miei Sono i miei Epple 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 He's so cool He's so cool e adesso siamo arrivati a nuovo e 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 Grazie a tutti